Bentornato Redronni. Grazie. Noi non possiamo salvare tutti, ma possiamo fare stare bene le persone che ci sono vicine. Certo. Ecco perché torno con i miei programmi. Era ora. Sì, perché contengono buona musica e racconti di verità. In archivio, ma non la posso far vedere, ho un'intervista con Buddha dell'87. Buddha? Sì, dove mi dice che ci sono solo tre cose che non puoi nascondere. Il sole, la luna e la verità. Bello. Ecco perché la verità è importante. In archivio ho anche Crozza, che nel 97 voleva prendere il mio posto come presentatore. Crozza. E voleva anche già imitarmi, ma non la posso far vedere. E perché? Fallo vedere, no? Sì, la faccio vedere. Qui abbiamo questo gruppo eccezionale, scusami, sono inciampato. Noi ci prepariamo tutta la settimana, perché ci deve intervistare Redronni. Tu sei invece lusingato di essere intervistato da me, vero? Certamente, perché... Perché io ho detto adesso faccio una perfetta imitazione di Redronni, compreso, discreto, interessato. Sono stato tutto questo o no? Redronni torna, lunedì 4 ottobre, con il premiato circolante del Barone Rosso. Sabato, 9 ottobre, con Let's Spend Saturday Night Together. Together, ooh ooh, Let's Spend Saturday Night Together, together. We have a dream. Martedì, 12 ottobre, con We Have a Dream. E vai!